appena uscito sexy shop il pensiero di tutti è andato ai riferimenti di fedez a chiara ferragni sì perché il testo ne sarebbe pieno parla delle amiche assetate di fama fedez nella sua nuova canzone e poi fa riferimento all'essere un bugiardo e a non cambiare mai ma fedez ci ha tenuto a far sapere che il testo non è un dissing a colei che ancora definisce sua moglie molti si aspettavano che insultassi mia moglie dice ma non intendo prendere parte a questo gioco perché la madre dei miei figli e mi spiace non aver accontentato le vostre aspettative ovviamente tutti si aspettavano che in questo grado io insultassi mia moglie io non intendo prendere parte a questo gioco per me è la madre dei miei figli e quindi mi spiace identifica ancora chiara come sua moglie fedez ma nel frattempo però posta un video della modella francese con cui è stato pizzicato mano nella mano settimana scorsa a monaco nel video la ragazza classe 2004 balla sulle note del nuovo singolo del rapper e 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